Il Museo Agostino Pepoli ha sede nei locali dell'ex convento dei padri carmelitani, un ampio edificio il cui nucleo originario sorse nella seconda metà del XIII secolo, rinnovato, ampliato e rimaneggiato in un ampio lasso di tempo che va dalla prima metà del 300 al 700. L'ampio fabbricato è attigo al Santuario di Maria Santissima Annunziata, dove si custodisce il trecentesco simulacro della Madonna di Trapani, pregevole scultura in marmo di Carrara raffigurante la Madonna con il bambino in braccio, riferita alla mano dello scultore toscano Nino Pisano, nei secoli oggetto di culto e meta privilegiata di pellegrinaggi dall'intero bacino del Mediterraneo. Il museo è intitolato al suo fondatore, il Conte Agostino Pepoli, che lo costituì come museo civico tra il 1906 ed il 1908. Il ricco patrimonio che vi è custodito ha origine in larga parte da tre importanti nuclei collezionistici, le raccolte di antichità e d'arte del Conte Agostino Sieri Pepoli, la quadreria del generale Giovanni Battista Fardella ed il museo del Conte Francesco Hernández di Erice. La collezione del Conte Pepoli include dipinti, gioielli, opere d'arte applicata, cimeli storici, reperti archeologici e riflette pertanto la cultura eclettica di stampo illuministico che fu propria del mecenate trapanese. La raccolta Fardella è costituita prevalentemente da dipinti del Cinquecento, del Seicento e del Settecento napoletano, acquistati dal generale sul mercato antiquario partenopeo. La collezione del Conte Francesco Hernández comprende dipinti, sculture in marmo, presepi, ceramiche, reperti archeologici. Il percorso espositivo si articola sui due piani dell'edificio. Al piano terra hanno sede la sezione dedicata alla scultura del Rinascimento e quella storico-risorgimentale, che comprende, oltre a svariati cimeli, anche una selezione di dipinti ottocenteschi. Al primo piano si possono ammirare la Pinacoteca, con dipinti che vanno dal tardo medioevo al XX secolo, e l'ampia sezione delle arti applicate, che include figurine da presepe, ceramiche, opere d'arte tessile, ori e argenti, manufatti in corallo gioielli. È in fase di completamento, ma non ancora aperta al pubblico, la rinnovata sezione archeologica.